Dicevo, innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti in questo fantastico webinar. Prima di iniziare vorrei gentilmente i vostri feedback audio e video, dopodiché possiamo tranquillamente iniziare. Scusatemi nuovamente per la musica di sottofondo. Mi sentite bene, mi sentite? Ok, ok. Grazie per i feedback. Perfetto. Ok. Audio e video. Ok. Perfetto. Allora, nuovamente a tutti, buonasera e benvenuti a tutti di nuovo. E questa sera di cosa parleremo? Questa sera parleremo dell'analisi fondamentale base in collaborazione con il broker IronFX. e chi andrà a seguire questo webinar andrà a comprendere le basi dell'analisi fondamentale. D'accordo? Sono basi e soprattutto informazioni di altissimo valore. e vorrei ricordare che appunto questo webinar viene offerto in collaborazione con il broker IronFX e con il relatore Gaetano Orisa Itta, nonché io. Allora, giusto qualche minuto sulla slide dei rischi inerenti al trading online e possiamo tranquillamente iniziare. Giusto qualche minuto. Attendiamo che si connette qualcun altro. Innanzitutto, buonasera Roberto, buonasera Carlo, Claudia, Davide, Fabio, Raffaele. Buonasera a tutti. Di dove siete di bello? Di quale città? Di quale regione? Di quale nazione? Scrivetelo in chat tranquillamente. Spero che mi sentiate forti e chiaro. Visto qualche minuto? Davide, provincia di Modena. Grande, grande. Ferrara, grande Raffaele. Allora, giusto qualche altro minuto e poi possiamo partire tranquillamente con il webinar senza problemi. Ok, allora, nuovamente a tutti. Benvenuti, benvenuti. Per me è un grandissimo piacere essere qui con voi questa sera. Sono contentissimo di poter interagire con i presenti del webinar. e in questo webinar stasera andremo a trattare tutte quelle informazioni basilari per poter comprendere sia il trading, quindi le basi del trading, però in questo webinar andremo a trattare soprattutto l'analisi fondamentale base. ovviamente fa parte delle basi del trading online, d'accordo? Per tanto, mi raccomando, connessi e focalizzati, super focus all'interno del webinar. Partiamo immediatamente, chi sono? Sono un trader analista, mi chiamo Gaetano Orisa Itta e di cosa mi occupo nella vita? Mi occupo sia di formazione sul trading online e sono, come ho detto ad inizio, come ho detto poc'anzi, mi occupo anche di analisi e quindi sono un trader. Il mio approccio preferito è l'analisi tecnica applicata alla tecnologia, come ad esempio sistemi di trading automatizzati e software simili. Ho scritto anche diversi articoli su investing.com, uno dei più grandi portali di informazione al mondo per quanto riguarda la finanza. Inoltre collaboro con molteplici brokers di trading, come relatore formativo e anche come partner. Sono anche un educatore finanziario iscritto a LIFE con il numero di registrazione 994. Che cos'è LIFE? LIFE è un'associazione di educatori finanziari italiani. Inoltre sono anche fondatore e CEO dell'azienda LIFE Elevation, realtà fintech in ambito finanziario. Ci occupiamo della progettazione e sviluppo di software applicati al trading. Fondiamo il talento con la tecnologia. Due grandissime risorse di altissimo valore. Poi, cos'altro? Perché faccio trading? Beh, la risposta è molto semplice. Il settore del trading è un settore molto, molto, molto redditizio. Ci sono grandi possibilità di guadagno. Ovviamente servono le informazioni e serve anche la formazione per poter guadagnare dal trading. D'accordo? E se si ha sia la formazione e anche le informazioni, si possono fare grandissime cose con il trading online. Questo qui è il mio tesserino da educatore finanziario iscritto a LIFE. Ripeto nuovamente il numero di registro, 994, per chi fosse interessato, anche a cercarmi all'interno del registro. E questo webinar è un webinar offerto in collaborazione con il broker IronFX. Cosa importante? Per chi mi volesse seguire sui social, per rimanere aggiornato sui prossimi webinar in collaborazione con il broker IronFX, qui troviamo la fanpage, l'account Instagram, troviamo anche la pagina su Facebook di IronFX, come lo troviamo anche all'interno di Instagram. Sotto troviamo il mio numero personale per quanto riguarda Whatsapp, per chi volesse essere aggiornato magari sui prossimi webinar, sui prossimi incontri con il broker IronFX. Allora, questa sera di cosa andremo a parlare? Che cosa vedrete nel webinar? Andremo a vedere l'introduzione all'analisi fondamentale, lettura e studio del calendario economico, cosa molto importante, analisi di dati e delle news di mercato e andremo a vedere anche una strategia di scalping basata sulle news di mercato. E ovviamente non possiamo farci mancare degli esempi del vivo all'interno della piattaforma MetaTrader 4 del broker IronFX. Allora, parlando del broker IronFX, per chi non lo conoscesse, è una delle più grandi marchi e broker di trading mondiale e oggi conoscerete un broker con oltre 12 anni di storia in questo fantastico settore. Innanzitutto partiamo dalle basi. Che cos'è un broker? Un broker non è altro che un intermediario tra noi e i mercati CFD. Il broker ci dà la possibilità di far trading, di accedere a ogni tipologia di strumento CFD con annessi piattaforme di negoziazione, come ad esempio MetaTrader 4 o 5 simili. D'accordo? Pertanto, per fare trading, chi serve? Un broker di trading. Non scordiamoci che i broker di trading devono avere anche delle licenze, d'accordo? Delle licenze e delle regolamentazioni, cosa che il broker IronFX possiede. D'accordo? Pertanto mi raccomando di operare con un broker con delle licenze, con delle regolamentazioni. È una cosa molto, molto importante. IronFX non è solo un broker, ma è anche un broker multi e pluri premiato, leader globale per quanto riguarda il trading online. Offre oltre 300 tipologie di mercati, come ad esempio Forex, materie prime, indici, mercato azionario, future, crypto e quant'altro. Ok? Anche un'assistenza abbastanza buona, in oltre 30 lingue diverse, pertanto opera sostanzialmente in tutto il mondo, d'accordo? E l'assistenza è veramente ottima, l'ho provata io in prima persona, sempre operativi, sempre reattivi e soprattutto molto flessibili con le necessità dei clienti. Inoltre anche un broker ha raccolto con orgoglio oltre 40 premi Forex globali negli ultimi dieci anni. Questi premi possono fare la differenza per quanto mi riguarda. è anche partner e creatore della IronFX Racing Yacht, bellissimo evento, vi consiglio poi di entrare nel sito ironfx.com e guardare questo evento molto molto seguito, è parecchio importante. Detto ciò, andiamo a vedere giusto le ultime informazioni del broker IronFX, e poi partiamo tranquillamente con il webinar senza problemi. Allora, questo non è il classico webinar. Partirei con queste parole perché non è il classico webinar, perché odio perdermi in parole, odio perdermi in chiacchiere, e perciò mi piace andare dritto al punto. Parlando al singolare, concentrati, spegni il cellulare, tranne se non lo stai utilizzando per seguire il webinar, e mi raccomando, massimo, massimo focus, perché questo, la chiave del successo è l'informazione e la formazione. Il successo personale è anche derivante da questo. Partiamo immediatamente, poi, qualora aveste delle domande o altro, potete tranquillamente scrivere all'interno della chat senza alcun problema. Allora, partiamo subito. Analisi fondamentale base. Che cos'è questa santa analisi fondamentale base? Iniziamo a dire che l'analisi fondamentale racchiude tutte quelle informazioni e quei dati magre e microeconomici che possono muovere, influenzare ed impattare nei mercati economici, nei mercati finanziari. In questo caso, stasera, andremo a vedere il mercato Forex. D'accordo? I mercati Forex. E ovviamente l'analisi fondamentale va ad impattare su ogni genere di mercato. Può essere azionario, cripto, Forex, la qualsiasi. Ovviamente anche le materie prime. E l'analisi fondamentale non è composta da solo news di mercato. È molto di più. Fare analisi fondamentale vuol dire unire molteplici fattori che possono essere economici, politici e anche, ovviamente, sociali. D'accordo? Ovviamente si vanno ad unire tutti questi fattori per comprendere che cos'è e come andrà ad influenzare e soprattutto in che modo vanno ad influenzare queste notizie. esempio, uno dei principali strumenti dell'analisi fondamentale da eseguire è il calendario economico, cosa che poi, ovviamente, andremo anche a vedere all'interno del portale investing.com, andremo a vedere come è formato, quale informazioni ci può riportare e quant'altro. degli esempi che possiamo trovare all'interno del calendario economico sono rilascio di dati importanti, discorsi di incontri politici, report e tanti e tanti altri dati che possono andare ad impattare con i mercati finanziari. Va bene? Ecco qui una preview di quello che cos'è il calendario economico. Innanzitutto questo è uno screen del portale investing.com e all'interno del calendario economico vengono riportate tutte quelle notizie. Vorrei precisare che comunque questo è un calendario economico e uno screen vecchio, non odierno, né tanto meno recente. Ora lo andremo a visualizzare nel dettaglio, nelle prossime slide e vedremo assieme poi ovviamente che cos'è e a cosa può esserci utile il calendario economico. Innanzitutto vorrei riportare un esempio di analisi fondamentale. Innanzitutto partirei con un esempio ancora più semplice da comprendere, e poi andremo a vedere un esempio di analisi fondamentale sul Forex. Allora partiamo con l'esempio numero uno. Allora facciamo che domani Apple vada ad annunciare mediante i propri social l'uscita di un nuovo iPhone, l'uscita di un iPhone rivoluzionario come può essere Apple, può essere Samsung o altri competitors. Parlo di Apple perché comunque è quella più grande nel panorama mobile, desktop e quant'altro. E qualora magari questo iPhone fosse realmente così rivoluzionario, ovviamente gli investitori, gli speculatori e quant'altro ovviamente potrebbero potenzialmente essere molto, ma molto interessati ad investire sulle azioni Apple perché appunto sanno che presto verrà rilasciato un nuovo iPhone con quelle caratteristiche e magari quelle caratteristiche vanno ad interessare quello che sono i potenziali clienti, d'accordo? Per una serie di informazioni e di dati, quelle azioni dell'Apple potenzialmente potrebbero andare al rialzo, d'accordo? Questo è un classico esempio di analisi fondamentale, ma se ne possono fare parecchi, possiamo anche fare un altro esempio molto semplice. Facciamo che domani Apple decida di unirsi ad un grandissimo competitor o addirittura di acquistarlo. Facciamo ad esempio che Apple domani rilasci un record o magari ci sono delle voci di corridoio o dei rumors inerenti a una potenziale fusione o un potenziale acquisto di un altro colosso da parte di Apple, in questo caso le azioni potenzialmente potrebbero schizzare al rialzo. Questi erano degli esempi molto semplici per quanto riguarda l'analisi fondamentale sul mercato azionario. Ora passiamo a degli esempi per quanto riguarda l'analisi fondamentale applicata al Forex. Adesso vorrei riportare degli esempi pratici per far comprendere in modo molto basilare un potenziale esempio di analisi fondamentale parlando di uno degli eventi più attesi nel panorama Forex nello specifico sulla coppia Euro-Dollaro e ovviamente tutte le altre coppie dirette e indirette per quanto riguarda la correlazione. Prendiamo in considerazione l'evento dei salari del settore non agricolo o anche detto non fan per all. È un evento molto atteso che di solito crea grandi movimenti di mercato per quanto riguarda il dollaro e ovviamente tutte quante le altre coppie Forex correlate direttamente e indirettamente. Che cos'è questo non fan per all? questi salari del settore non agricolo e cosa rappresentano? Allora rappresentano circa l'ottanta per cento dei lavoratori che producono il prodotto interno lordo negli States, negli Stati Uniti. Pertanto tale dato possiede un potenziale impatto sul mercato americano. In genere è usato come indicatore della salute economica degli Stati Uniti. Un valore elevato è visto come positivo, pertanto è un valore positivo visto per quanto riguarda sia l'economia locale e sia per gli Stati Uniti ma ovviamente anche per il dollaro che comunque è la moneta principale degli Stati Uniti. Dollaro americano, mi raccomando, perché poi ci sono anche altre tipologie. Mentre un valore basso è visto d'altra parte come un valore negativo per quanto riguarda l'economia degli Stati Uniti e ovviamente anche del dollaro stesso. E in una tipologia di evento simile, come si potrebbe far trading? Come si potrebbe sfruttare l'analisi fondamentale? Su una tipologia di evento simile si potrebbe far scalping, quindi delle operazioni di trading molto veloci, ad esempio sulla coppia euro-dollaro e vorrei anche ricordare che mediante queste notizie si crea alta volatilità mediante le news di mercato, soprattutto notizie ad alto impatto, notizie attrettori e crea dei movimenti di mercato molto veloci, movimenti che si possono potenzialmente andare a sfruttare. E perché si possono andare a sfruttare? Perché possono creare dei movimenti e ovviamente dove ci sono movimenti di mercato si possono sfruttare per andare a guadagnare. Ritornando all'investimento di prima, sarà così possibile investire sulla coppia euro-dollaro prima al ribasso e poi al rialzo in modo potenziale. Ora andremo a vedere in che modo si potrebbe andare ad investire perché lo vedremo assieme direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4 affinché possiate comprendere ancora meglio la tipologia di operazione e di operatività mediante lo scalping. Ora facciamo un attimo un passo indietro e poi andiamo nuovamente a ricollegarci a quello che è questo potenziale investimento. Vorrei appunto rifare un passo indietro per parlare del calendario economico e poi ritorniamo indietro per vedere assieme questa operazione di scalping. Allora, come avevo detto nella precedente slide, il calendario economico è uno dei principali strumenti dell'analisi fondamentale e seguire il calendario economico ci aiuta a capire quali eventi andranno ad uscire e ovviamente ci sono anche le analisi degli analisti che possono darci una mano, possono darci magari delle potenzialità su come si vanno a muovere i mercati in quei determinati eventi. D'accordo? E vorrei anche ricordare che l'analisi fondamentale deve essere combinata anche all'analisi tecnica e poi ovviamente andremo a realizzare noi stessi l'analisi razionale. E che cos'è l'analisi razionale? L'analisi razionale unisce l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale o viceversa, unisce l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica per arrivare all'analisi fondamentale. Allora, partiamo immediatamente, qui siamo all'interno del portale investing.com come vi ho detto poc'anzi saremmo andati a vedere il calendario economico e per vedere il calendario economico uno dei più completi possiamo andare direttamente sul portale investing.com Italia possiamo cercare su google slash calendario economico eccoci qui, questo è un calendario economico, d'accordo? Allora, il calendario economico come è suddiviso? Questo è suddiviso innanzitutto da un orario, un orario di uscita della notizia, evento, report, quello che sia il paese o la moneta, l'impatto che potrebbe andare a creare tale evento quindi la volatilità che ci si potrebbe attendere la tipologia di evento, il giorno, quindi in questo caso 11 luglio 2022 eccoci qui, questi sono tre dati molto importanti quindi attuale, previsto, precedente allora, il precedente è il precedente dato uscito già uscito in passato, quindi quello precedente il previsto è quello che vanno a prevedere gli analisti e poi l'attuale è il dato che andrà ad uscire all'orario concordato ovviamente non in tutti gli eventi vedremo ad esempio un precedente, un previsto, un attuale perché magari alcuni eventi possono essere ad esempio delle riunioni come ad esempio riunione dell'Eurogruppo o degli incontri politici però ovviamente queste riunioni e questi incontri politici possono anch'essi muovere i mercati finanziari ora tra due minuti sul mercato americano andremo a vedere Asta, buono il tesoro con scadenza a tre mesi questo è il precedente dato, però è un dato che sostanzialmente non andrà a creare volatilità cioè ci si attende una bassissima volatilità e quindi per oggi vedremo una bassissima volatilità però alle ore 20 sul mercato americano e quindi sulla coppia euro-dollaro potremmo attenderci un evento che può muovere il dollaro e quindi di conseguenza muovere tutte le coppie collegate al dollaro anche ovviamente petrolio e gold compresi perché comunque anche alcune materie prime sono collegate direttamente o indirettamente al dollaro questo non vale solo per il dollaro ma vale anche per altre coppie e altre monete poi potremmo anche andare ad esempio a vedere per chi vuole, per chi volesse e andare appunto ad informarsi e ad avere ancora più informazioni sulla tipologia evento possiamo tranquillamente premere ad esempio all'interno di questo dato e vedremo tutti quanti i vari incontri politici, le prossime date eccetera eccetera o potremmo anche andare a vedere e scoprire di cosa si tratta appunto quest'asta buoni del tesoro con scadenza a tre anni e qui andremo a vedere tutte quelle che sono le informazioni vedremo assieme anche un istogramma quindi con tutti quanti i precedenti dati possiamo ovviamente anche andare a visualizzare nel tempo quindi facciamo ad esempio dal 2010 fino al 2022 e vediamo tutto quello che è successo in passato e ovviamente sono informazioni e dati che possono andarci ad aiutare e possiamo anche andare a vedere tutti i precedenti dati usciti quindi i precedenti dati degli precedenti eventi scusatemi per il giro di parola detto ciò ora andiamo a vedere ed entrare nel vivo della situazione all'interno della piattaforma MetaTrader 4 del broker IronFX qui siamo all'interno della piattaforma MetaTrader 4 del broker IronFX di preciso nella coppia euro-dollaro time frame H1 allora come potremmo fruttare una potenziale ovviamente una notizia che possa andare a creare movimento all'interno del mercato beh la strategia è molto semplice e per quanto mi riguarda e per quanto concerne la mia esperienza possiamo potenzialmente pre uscire a news di mercato parlando riferendoci sempre a una notizia che potrebbe andare a creare dei grossi movimenti andare ad impostare dei preordini perché ovviamente non possiamo conoscere l'evento o il dato atteso possiamo ovviamente presupporlo mediante l'analisi in questo caso sull'analisi fondamentale possiamo andare a comportarci così per quanto riguarda questa strategia di scalping sull'analisi fondamentale possiamo andare ad impostare dei preordini così se il prezzo dovesse schizzare a rialzo o a ribasso noi possiamo andare potenzialmente a guadagnare dall'apertura di questi preordini d'accordo? cosa sono questi preordini e come funzionano? come dice la parola stessa pre-ordine prima di un ordine quindi il prezzo se il prezzo corrente in questo caso è questa linea nera dovesse toccare questo preordine quindi questa linea tratteggiata in verde in questo caso si andrebbe ad aprire un'operazione in buy e quindi se ovviamente il mercato poi prosegue al rialzo noi andiamo a guadagnare si possono anche andare ad aprire più preordini d'accordo? mi raccomando secondo la mia esperienza personale momentanea pertanto non è un consiglio di non mettere mai i preordini troppo vicini al prezzo corrente se fate così per quanto mi riguarda non è buono perché questo? pre-news di mercato il mercato potrebbe creare dei movimenti dei movimenti analoghi e potrebbe magari aprirvi sia il preordine in buy sia il preordine in sell ovviamente non è una buona cosa invece conviene secondo la mia esperienza aprire magari dei preordini con una certa distanza d'accordo? allora arriva una domanda di Davide stanno scontando oggi le notizie di venerdì? beh sì tecnicamente sì anche perché dopo il venerdì c'è il sabato e la domenica se mediante il sabato e la domenica ovviamente i mercati non si muovono ok? quindi se escono delle notizie il venerdì poi i mercati sabato anzi venerdì sere e poi sabato e domenica restano chiusi poi i mercati vanno a scontare le notizie il lunedì mattina quindi ad apertura di mercato si possono andare a verificare dei gap di mercato ok? quindi sempre occhi aperti con le vostre operazioni sempre stop loss pronto mai tenere delle operazioni senza uno stop loss se no si finisce di restare in ostaggio del mercato ritornando alle operazioni di prima qualora il mercato dovesse andare a rialzo i nostri due preordini si vanno ad aprire in buy poi ovviamente se ne possono anche andare ad inserire più di uno allora una domanda di Raffaele mi confermi che il mercato delle criptovalute è sempre aperto? sì, quello è un mercato aperto e operativo H24 anche mediante broker di CFD d'accordo? per quanto riguarda il mercato delle cripto ci sono delle cripto ancora maggiormente suscettibili rispetto magari al mercato forex o materie prime ad esempio il mercato del petrolio del petrolio e dell'olio è un mercato molto ma molto statico a volte escono notizie anche di grande rilievo ma il mercato non si muove cioè non ne subisce conseguenze cosa inversa invece il mercato gold le commodity per quanto riguarda il gold il gold ad esempio è molto ma molto suscettibile e a sua volta è anche molto correlato al dollaro quindi ogni mercato ha delle proprie logiche e una propria testa e una propria mentalità ci sono mercati più suscettibili e mercati meno suscettibili e il gold è molto ma molto suscettibile rispetto al mercato del petrolio detto ciò possiamo ritornando all'esempio di prima possiamo anche inserire un solo preordine qualora ovviamente la nostra il prezzo corrente andasse a fondare questo preordine in buy si può anche valutare di oprire delle operazioni in real time si inserisce il lotto questo è un lotto minimo 0.01 si può anche andare ad inserire una stop loss un take profit e possiamo quindi andare a lavorare anche in manuale piuttosto che con i preordini quindi possiamo anche magari non utilizzare preordini e fare il tutto manualmente cioè se vediamo un picco del rialzo possiamo poi andare subito e immediatamente andare ad acquistare all'esempio d'accordo? mi raccomando qualora voleste andare a fruttare questa strategia di scalping sulle news di mercato di restare incollata al grafico di trading quindi non mettere preordini posizionare preordini o magari aprire le operazioni chiudere il terminale metatrader 4, metatrader 5 quello che sia e andarvi a fare una passeggiata assolutamente no soprattutto applicando l'operatività di scalping sulle news di mercato o comunque scalping generale è consigliabile e opportuno controllare sempre le operazioni e soprattutto impostare qualora non si volessero controllare sempre le operazioni impostare uno stop loss uno stop loss ci protegge del rischio di restare in ostaggio del mercato meglio chiudere un'operazione a meno 20 meno 30 meno 50 euro o meno 10 euro quello che sia piuttosto che vedere quell'operazione andare sempre più rosso perché è questo? perché poi subentra la psicologia all'interno del trading quindi subentrano tutte le nostre emozioni magari vediamo l'operazione che arriva a meno 50 meno 100 meno 200 meno 300 e per paura di andare a perdere quei soldi lasciamo l'operazione correre e a volte l'operazione può invertire e andiamo a recuperare quei soldi ma in molti casi l'operazione non va ad invertire e l'operazione l'andremo a vedere sempre più in rosso d'accordo? quindi meglio chiudere l'operazione e soffrire con una sofferenza minore quindi qualcosa di istantaneo piuttosto che restare e soffrire per molto tempo possono anche passare giorni o anche mesi e quindi ricordatevi stop loss cosa importantissima meglio chiudere 20, 30, 100 o quello che sia piuttosto che restare bloccati con il proprio trading ok poi andremo a fare magari un webinar dove parla solo di psicologia all'interno del trading è una cosa che molti vanno a sottovalutare e molti neanche ne parlano e ovviamente la psicologia è un fattore molto importante per quanto riguarda il trading detto ciò ritorniamo all'interno del webinar e se avete altre domande o altre curiosità possiamo tranquillamente posso tranquillamente rispondere a tutte quante le varie curiosità o domande e vorrei lasciarvi le prossime date per quanto riguarda i prossimi i prossimi webinar allora ogni lunedì in collaborazione con il broker IronFX andiamo a realizzare sempre dei nuovi webinar webinar innovativi webinar creativi webinar che apportano tantissimo valore d'altronto perché comprarvi un corso di trading quando potete tranquillamente seguirvi un webinar cento per cento gratuito allora giorno 18 luglio andremo ad affrontare l'analisi tecnica base sempre alle ore 17 quindi 5 giorno 25 luglio e andremo a vedere le basi del trading ore 17 e ogni lunedì andremo a rifare questo ciclo poi vedremo anche di portare magari qualche webinar nuovo poi se avete magari curiosità o domande o se volete affrontare un webinar in particolare basta che magari mi contattate su whatsapp e andiamo un attimo a programmare secondo anche i vostri feedback dei webinar che magari vi possono interessare interessare di più detto ciò un saluto a tutti ci vediamo alla prossima e mi raccomando non mancate anche perché le iscrizioni sono limitate pertanto prima vi iscrivete meglio è perciò contattatemi sui miei social contattatemi su whatsapp e così vi mando il link e potete tranquillamente registrarvi al prossimo webinar d'accordo? allora arriva allora Davide ti faccio la richiesta adesso analisi multi time frame ok scrivimi su whatsapp anche per capire di cosa vuoi che andiamo a parlare nello specifico e vedremo assieme anche mediante altri feedback di strutturare un'altra tipologia di webinar detto ciò un saluto alla prossima e grazie per aver partecipato a questo fantastico webinar prego Raffaele cordiali saluti da Gaetano Risaita un ringraziamento speciale ad ogni presente del webinar e un grazie anche al broker IronFX per avermi offidato questa sera come educatore e cordiali saluti anche da parte del mio team Life Elevation un saluto a tutti e un abbraccio una buona serata a tutti quanti